Giusto che la magistratura verifichi se chi ha amministrato lo ha fatto con dovuta trasparenza, ma resta intatta l'attività sanitaria, sociale e di protezione civile dell'associazione. Così il coordinatore ANPAS della zona Aretina, Ernesto Ferrini, in merito all'inchiesta della procura di Arezzo sulla Croce Bianca di Ricutino, finita al centro di un blitz della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, che hanno eseguito una perquisizione con il sequestro di documenti. Il blitz era scartato a seguito di un esposto presentato ai militari. La Croce Bianca di Ricutino è una presenza nel territorio da circa 40 anni e ha sempre svolto il servizio in modo onorevole e col spirito di solidarietà, commenta Ferrini. La sua azione quotidiana ha dimostrato una costante capacità operativa nei vari contesti, mai venendo meno alla sua vocazione di soccorso sanitario e sociale, secondo i principi che espirano le organizzazioni di volontariato ANPAS. Tutto questo grazie all'impegno del personale volontario e di quello dipendente. Essere ANPAS, prosegue, significa far parte di un'organizzazione di primaria importanza in Italia nel campo sanitario e sociale di protezione civile. In altri termini, essere con umiltà dalla parte di chi ne ha bisogno. La Croce Bianca di Ricutino, conclude Ernesto Ferrini, lo ha fatto e solo per questo merita rispetto. Grazie. Grazie a tutti.